A voi tutti buonasera e bentrovati ad Obiettivo Prato. Questa sera parliamo del progetto Agrinet for Education, il progetto cofinanziato dall'Unione Europea per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della politica agricola comunitaria, un progetto che ha visto la partecipazione e la collaborazione attiva di alcuni studenti di due scuole del territorio. Tra le scuole che hanno aderito al progetto Agrinet anche la primaria Ciliani e in particolare ha partecipato al progetto la quarta B. Vediamo come è andata. La scuola primaria Ciliani dell'Istituto Comprensivo Filippino Lippi di Prato ha colto la sfida di affrontare il delicato tema del contrasto ai cambiamenti climatici, uno degli obiettivi chiave della politica agricola comunitaria, protagonisti del progetto i bambini della classe quarta B. Un obiettivo che è stato sviluppato dagli alunni attraverso la realizzazione di un video. Torniamo pulita la nostra città. Quando puoi vai in bicicletta. O a piedi. Fai la raccolta differenziata e falla bene. Nerva e plastica. Ricicliamola. Usate la borraccia. Non inquinare. Spengi l'aria condizionata. Guarda che io ti vedo. Moller Joe. Abbiamo pensato al video perché ci ha dato la possibilità di coinvolgere tutti i bambini permettendo loro di esprimersi liberamente anche ognuno nella propria lingua proprio perché il progetto riguarda tutti a livello globale non solo personale e questo quindi ha dato la possibilità ad ognuno di loro di esprimersi, di divertirsi, di recitare in piccoli sketch che hanno voluto mostrare come il tema affrontato abbia risonanza e abbia una caduta sulla vita di tutti i giorni. Tra l'altro con una declinazione legata anche al nostro territorio. Sì, diciamo che il set che fa da sfondo al video è proprio la città di Prato che purtroppo ultimamente è stata colpita da eventi naturali che hanno scosso molto i nostri bambini e quindi è proprio lo sfondo ideale per mostrare come questo cambiamento climatico possa influire sulla nostra vita. Adesso è diventata la città dei paradossi, d'inverno fa caldo, tira vento e seppione si rompono i fossi. Com'è stato lavorare a questo progetto, realizzare un video insieme ai tuoi compagni? Bello e emozionante perché ci ha insegnato sempre di ora di non inquinare e gli adulti, dare esempio agli adulti. Mi è piaciuto. E cosa ti ha insegnato? Mi ha insegnato la raccorta differenziata e come è cambiato le zone climatiche di Prato. Vediamo adesso quindi integralmente il video che hanno realizzato i bambini di Prato. Bambini della Quarta B della Primaria Ciliani. Bambini della Quarta B della Primaria Ciliani. Spengi l'aria condizionata. Guarda che io ti vedo. Moller, ciao. Rispettiamo tutta la natura. Non sprecare il cibo. Piantiamo più alberi. Non tagliamoli tutti. Non sprechiamo l'energia. Spengi la luce se non ti serve. Non inquinare l'arca. Separiamo i rifiuti. Spengare l'acqua è un bel prezioso. Prendiamo solo questo pianeta. Prendiamocene cura. Eccoci. Non bastavano le barriere architettoniche a bloccarci il passaggio. Adesso ci sono pure i sacchi della spazzatura. E già, come andiamo in giardino? Idea. Chiediamo a quei ragazzi. Ehi, ci potete dare? Sì, certo. Ma questo va nel bisogno di inviare il tuo piatto. Bravi, avete contribuito a salvare il pianeta. Ehi, tu! Ma non lo sai che se non fai la raccolta differenziata inquini? Ma soprattutto, sai che l'impatto ha sul clima? I rifiuti emettono il metano ed è un gas molto potente ed è responsabile dell'aumento della temperatura terrestre di un grado. A mio tempo il piatto era la città dello sconforto dove piove tira vento e suona il morto. Adesso l'è diventata la città dei paradossi. D'inverno fa caldo tira vento e se il piove si rompono i fossi. Olu, Udo, non è reputato a 12 euro a prato. Ci voleva grosso costume. La crisi climatica ci fa paura! Vogliamo Natale con la neve! E il vento freddo è un autunno! È una vera primavera! È caldo, sono in estate! Sfiane! adulti responsabili noi abbiamo grandi progetti per il futuro! chau! Inovare la crisi climatica per ieri loro ai non anche le Anche la scuola primaria Pizzi di Monte ha partecipato al progetto Agrinet, due le classi quarte che hanno aderito e che hanno realizzato il loro lavoro e che hanno lavorato soprattutto sui temi della politica agricola comunitaria, la quarta A e la quarta B. Anche la quarta A ha partecipato al progetto Agrinet, che tipo di progetto hanno realizzato e quanto è stato importante lavorare con questi bambini? I bambini hanno affrontato quello che è il numero 4 delle politiche agricole comuni e appunto quello che è il cambiamento climatico. Il lavoro è stato diviso in due fasi. Una prima fase di studio nella quale i bambini hanno affrontato, hanno visto video, abbiamo approfondito la tematica anche grazie al materiale fornitoci dal progetto. Poi nella seconda fase siamo passati in modo operativo a mettere nero su bianco quello che poi abbiamo pensato, i bambini hanno pensato. Quindi è stato realizzato, è stato prodotto un fumetto nel quale i bambini hanno messo tutto il loro impegno, tutta la loro fantasia, ma soprattutto tutta la loro voglia di cambiare, di cambiare le sorti di questo mondo. Perché come abbiamo anche scritto nella conclusione, noi siamo qui per salvaguardare il futuro, ma il futuro si salvaguarda nell'oggi, nel presente. E usando un vecchio slogan dell'azione cattolica abbiamo scritto che noi siamo sì futuro, ma siamo presente. Quindi siamo futuro presente. È da oggi che dobbiamo iniziare a cambiare le sorti del mondo per il futuro, per il nostro domani. Soprattutto il loro domani. Nell'ultima pagina del fumetto c'è un bambino che si carica sulle spalle il mondo, che sta proprio ad indicare la responsabilità di ognuno di noi nel cercare di cambiare le sorti di questo mondo. Quello che è il cambiamento climatico, quello che è l'inquinamento, quella che è anche una piccola sciocchezza che può essere la carta, che può essere la plastica buttata nel giusto contenitore. Abbiamo realizzato un fumetto in modo giocoso per parlare ai bambini di questa cosa, di bambini come noi, anche più piccoli. Che cosa hai imparato? Ho imparato che bisogna tutti rispettare l'ambiente e che noi bambini ora dobbiamo cercare di fare meglio di quello che è successo. Mi è piaciuto e poi ho imparato anche che l'ambiente va rispettato e che non va inquinato perché se no il mondo avrà delle conseguenze molto brutte. Che cosa hai imparato? Cosa hai capito? Che bisogna rispettare l'ambiente e pure gli animali che vivono intorno. È un argomento che rispetta l'ambiente, quindi gli animali e tutto quello che ci vive, ma rispetta anche noi, perché se noi non rispettiamo l'ambiente anche noi avremo una conseguenza. Anche la porta B della primaria Pizzi di Monte ha partecipato al progetto Agrinet. Che cosa avete realizzato con i bambini? Allora, con i bambini abbiamo diviso il lavoro in due fasi. Una prima fase di studio e nella seconda fase siamo passati alla fase operativa, nella quale i bambini sono stati i protagonisti. Tutto questo, completamente in modo autonomo, divisi in gruppi, quindi anche modalità di cooperative learning. I bambini hanno collaborato, hanno inventato la storia del fumetto, hanno ideato, progettato e poi messo nero su bianco i disegni di questo fumetto. Hanno messo in campo tutta la loro fantasia e la loro voglia di voler cambiare questo mondo. Poi sono state coinvolte tutte le discipline, comunque le varie materie. Sì, è stato un lavoro abbastanza bello perché appunto è stato interdisciplinare. È stato bello scoprire come tutte le materie possono essere interscambiabili, si possono collegare. Ci tengo a dirlo perché è la mia materia. È stato bello scoprire come la religione ancora in questi anni, nonostante ci sia distrattato un po', lo possiamo dire, sia al centro di tutte le materie, sia collegabile a tutte le materie, italiano, religione, matematica, religione, geografia, religione. E questo fumetto, questo progetto ne è la prova. Che cosa avete realizzato quindi per questo progetto? Abbiamo fatto un fumetto in cui si spiega il cambiamento climatico dei bambini della classe quarta che abitano in una città molto pulita che si chiama infatti Puli City e che per una gita vanno ad Inquina City che è governata da un re buono che ha una figlia che si chiama Atmosfera e però lo zio di Atmosfera è uno stregone cattivo che vuole rendere ancora più inquinata Inquina City e per mettere K.O. in lo stregrone vogliono tornare indietro nel tempo per rendere più pulita la città. Ci riescono e la città si chiama Nether. Ho imparato molto comunque, ho imparato comunque cosa sta succedendo nel mondo, come possiamo risolvere questa cosa perché non è molto facile risolvere questa cosa e ci vogliono diversi passaggi per fare questa cosa perché questo mondo, come dice la nostra maestra, è nelle mani nostre e noi dobbiamo pulirlo da tutto quello che c'è dentro di sporco e quindi è tutto nelle nostre mani e ci dobbiamo provare, ci dobbiamo riuscire. Ci siamo divertiti a fare questo progetto. All'inizio abbiamo avuto tutte le idee diverse, però siamo riusciti a fare questo fumetto collaborando e passando tempo insieme. Che cosa ha voluto dire per te partecipare a questo progetto? È stato molto bello partecipare perché mi sono divertito tanto e ho imparato tante cose e che il cambiamento climatico può essere una grave conseguenza per il nostro futuro e come dice sempre le nostre maestre, dicono che il futuro dipende da noi. E con questo è tutto, Obiettivo Prato per questa sera termina qui, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.